Fino a sabato 30 giugno potranno essere inviate proposte di iniziative culturali che saranno valutate ai fini della redazione del programma della 724esima perdonanza celestiniana. Lo rende noto il presidente del comitato perdonanza, il sindaco Pierluigi Biondi, che invita enti, istituzioni, associazioni culturali, sociali e sportive, nonché artisti e chiunque fosse interessato a presentare tali proposte. A queste dovranno essere unite una relazione descrittiva dell'iniziativa, un preventivo di spesa, con l'indicazione delle fonti di finanziamento e l'eventuale richiesta di contributo. Il tema sul quale dovranno essere confezionate le proposte è la riconciliazione e la famiglia. I materiali dovranno essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica perdonanza.eventi-comune.l'aquila.it e saranno esaminati dal direttore artistico e dall'apposita sezione del comitato perdonanza 2018. Le proposte saranno impegnative da subito per chi le presenterà, mentre lo diventeranno per il comune e il comitato perdonanza solo dopo l'approvazione e la sottoscrizione del relativo atto d'impegno. Grazie mille. Grazie mille.